Il giardino dei giusti sardi tra le nazioni in ricordo di chi si adoperò per aiutare e sottrarre dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti numerosi ebrei e perseguitati politici. L'area scelta è stata quella della parte alta dei giardini pubblici dove sono stati piantati sette alberi proprio in memoria dei giusti sardi tra le nazioni, momento che ha visto la partecipazione della giunta comunale di Sassari e di numerosi consiglieri comunali. Il sindaco di Sassari, Nanni Campus, ha scoperto la targa dedicata al giardino e piantato simbolicamente un albero. La principale promotrice dell'iniziativa è la consigliera comunale Virginia Orunesu, che ascoltiamo i nostri microfoni. Oggi si inaugura a Sassari il giardino dei sardi giusti delle nazioni. Siamo in compagnia del consigliere comunale Virginia Orunesu, promotrice di questa iniziativa. In che cosa consiste? Allora, vorrei innanzitutto dire che il consiglio comunale, riunito in forma solenne il 27 gennaio, per ricordare appunto la Shoah, il dramma della Shoah, ha voluto prendere in considerazione e ricordare i sardi giusti delle nazioni. Questi eroi del bene, che con un forte senso di giustizia, con generosità e altruismo, hanno salvato tante vite umane. Questi non vengono normalmente ricordati nei manuali di storia. Invece è bene ricordare, è bene celebrare, perché rappresentino la memoria storica per le nuove generazioni. I giusti nel mondo sono oltre 16.000 e 600 sono italiani. Il consiglio comunale ha voluto comunque focalizzare proprio la sua attenzione sui sardi. I sardi giusti delle nazioni ne sono stati individuati sette. Ciascuno che ha, con senso di giustizia, con forte senso del dovere, appunto durante quel periodo, ha salvato numerevoli vite umane, dando testimonianza di uomini e di donne resilienti, che hanno combattuto il male, che hanno combattuto i poteri forti, non con le armi, ma con l'altruismo e la generosità, senza mai chiedere niente in cambio. Il giardino perché? Il giardino che oggi noi realizziamo emula un po' quello di Yad Mashem a Gerusalemme e nel 2003 invece è stato istituito il primo giardino dei giusti a Milano. Il giardino dei giusti ha una caratteristica, quello di universalizzare proprio il concetto di giusto, inserendo non solo coloro che hanno salvato la vita ad ebrei, ma anche coloro che sono stati impegnati nel genocidio nelle varie specie, genocidio bosniaco, genocidio armeno. Perché un giardino? Perché ciascuna pianta che noi oggi vediamo, per esempio il leccio, rappresenta vitalità, rappresenta un continuo della vita e sappiamo benissimo che ogni albero è fonte di energia, è fonte di rigenerazione, è praticamente un proseguo della vita. Il leccio in modo particolare, questo che è alle mie spalle, che si alza dal basso verso l'alto, si innalza verso l'alto, rappresenta proprio un continuum della vita e anche un forte senso di spiritualità verso l'alto. Questo è. Sassari, ultimamente definita come la città d'Italia meno inquinata dalle polveri sottili e pronta per la ripresa in grande stile. E lo fa con tante iniziative che permettono di essere apprezzata ancora di più e non soltanto ai sassaresi. Intanto, per creare momenti di aggregazione e di confronto e di dialogo, tante sono iniziative che denotano questa voglia di riprendersi. Tra le diverse attività proposte, per esempio, da oggi sono iniziate alla prima mattinata l'ipodromo Pina e preparativi per lo street food internazionale, dal nome significativo Festa del Gusto, con prodotti enogastronomici alla Sardegna, di altre regioni d'Italia e del resto del mondo, che parte da oggi giovedì 24 giugno e si concluderà domenica 27, una grande festa che durerà 4 giorni e permetterà a tutti di ritrovarsi con tanta gioia e tante speranze per un futuro migliore. In un punto è la città pieno di alberi che contribuiscono ad ossigenare l'aria e a far vivere agli abitanti nuove prospettive e obiettivi, finalmente consapevoli di aver contribuito al superamento di un periodo che ci ha coinvolto dolorosamente tutti. E ci auguriamo, si possa finalmente abbracciare un futuro luminoso. Grazie a tutti. Benvenuti a Biazantes, oggi un'altra puntata sempre in compagnia di Bruno Lombardi. Ciao Bruno, buongiorno a te. Ci siamo lasciati la volta scorsa, ci hai dato già appuntamento ad oggi per poter parlare di lingua sarda. A te la parola. Sì, la lingua sarda è così importante e oggi ne parliamo in un aspetto abbastanza specifico, cioè nel ruolo con la preghiera. Perché noi pensiamo che questa lingua molte volte sia così di supporto ad altri ambiti e in altri ambiti per altre condizioni. invece noi vediamo una grande importanza ancora oggi della lingua all'interno delle famiglie, quindi della lingua parlata ovviamente, anche della lingua scritta. Però magari per la lingua scritta noi vediamo alcuni abbinamenti diciamo più specifici con la poesia, non magari con la preghiera. Ben che ci sia comunque una grande tradizione anche di Gozos e di altri ambienti, musicali che riguardano appunto la lingua sarda nella preghiera. Voglio parlare nello specifico di una preghiera così particolare che ha un areale abbastanza vasto e sembra che questa lingua sarda sia anche motivo di traduzione. Dico perché. La preghiera io la conosco come sa preghiera e su notte. Una preghiera che faceva anche mia madre. E fa così per le prime due righe fa. Dice sull'etumeo del battor scavones battor angelo sibibone ne duos in pe duos in capitta. Poi continua dice nostra signora su costa al zumista. Ecco, è praticamente la stessa preghiera che troviamo anche a Tiesi e la ritroviamo almeno documentata nella seconda metà dell'Ottocento. Ecco che questa preghiera e questa lingua considera almeno più di cent'anni di presenza nel territorio. Ma non solo a Tiesi. Un areale che va anche verso Cossuine, Pozzo Maggiore e addirittura anche in catalano di Alghero. È molto particolare. Spesso si pensa che la lingua viene sempre tradotta magari non so dall'italiano. In questo caso invece il sardo riesce a tradurre questo tipo di preghiera anche in lingua algherese. Ed è importante perché è una preghiera che è legata sicuramente e indubbiamente con il rapporto tra madre e figlio o figlia. Quindi si dice di solito prima di andare a dormire. Ma in realtà anticamente, ho trovato alcune tracce anche nel Settecento, è probabilmente una preghiera esorcistica. Ecco che quindi c'è questo rapporto nella protezione contro suguzzinoso. che sarebbe il demonio, no? Era un termine spesso che si utilizzava per non dire esattamente quel nome. Perché è importante? Perché segnala una presenza della lingua sarda nel tempo, mai corrotta, mai distrutta, neanche in ambito spagnolo, neanche quindi poi in ambito italiano, ma anzi così presente nella lingua parlata e anche in questi avvenimenti. perché la preghiera era un avvenimento, non solo legato alle famiglie o a colui che andava a fare quel tipo di rito o ritualità, ma in ambito paraliturgico, perché è al di fuori della liturgia, questo genere di preghiere esistevano, persistevano e venivano tramandate, come quelle che oggi chiameremo preghiere di liberazione. È importante perché attraverso questo tipo di preghiere la lingua veniva tramandata. Molto bello, probabilmente, anche alcuni magari ci vedranno anche un aspetto antropologico in questo senso, che il rapporto con la comunità di queste preghiere andavano poi al di là dei confini, perché ogni sardo si portava dietro quando andavano, emigrava, soprattutto fino ad 800 erano queste grandi migrazioni di sardi, si portava questo bagaglio e se lo portava come o con le canzoni, i mutos, per esempio, e poi a seconda, ovviamente, delle zone, ognuno aveva la sua specificità, col ballo difficilmente se non si era in più persone, ma soprattutto con le preghiere, perché era forse l'unico momento personale per tramandare la memoria e quindi la lingua stessa. Quindi anche poesia nel caso. Certo, certo. È legato sempre a questo aspetto, anche perché le dinamiche poetiche sono quelle poi che riescono ad affacciarsi, a riflettersi sia in ambito, non so, religioso o in ambito, non so, prettamente dei mutos, per esempio, quindi non so, del corteggiamento in quei casi. L'ambito poetico, quindi l'ambito simbolico, è una prerogativa, certamente, di tutto il bacino mediterraneo, certamente poi di tutte le altre culture, anche della cultura araba, però in Sardegna noi vediamo questo aspetto molto molto importante e la lingua quindi dimostra che c'è ancora una vitalità in questo senso. Anche a Sassari abbiamo grandi esempi di preghiera, per esempio, non so, anche l'Ubaglionu che è un ambito riconosciuto in ambito femminile, quindi recitato, a volte anche per dare l'ultimo saluto al morto, al defunto, e quindi in Sardegna si dovrebbe attitare preso molto, no? Ecco che quindi vediamo questo aspetto così importante della lingua, ecco perché è importante in questa puntata ribadire il concetto che la lingua sarda è un veicolo che non muore mai, certamente si trasforma come in tutte le lingue, ma non muore e può, secondo me, dare la possibilità di non perdere la memoria in quegli ambiti in cui, per forza di cose, la storia, o comunque, insomma, i tempi vanno avanti, volgono avanti, e portano ovviamente la Sardegna in un ambito molto meno tradizionale se vogliamo, invece la lingua dimostra che non c'è differenza tra passato e presente, tra tradizione e non tradizione. Grazie Bruno, hai già idea della prossima settimana o preferisci non dirci niente? Parleremo di cornamuse in Sardegna, ma non dico altro. Cornamuse, strumenti. Cornamuse strumento in Sardegna. Va bene. Ne vedremo delle belle. E allora, in chiusura, giovedì prossimo, grazie innanzitutto per essere stati con noi, oggi, giovedì prossimo, parleremo di cornamuse sempre nella nostra rubrica. Ricordatevelo, via Zantes, con voi. e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.